Conosci la più antica cantina della città di Avellino? Probabilmente no, poiché mi ci trovo proprio all'interno ed è stata abbandonata per molti anni. Queste infatti sono le cantine Ama del 1878 di Angelo Mastro Berardino. È una struttura dalle dimensioni colossali e proprio qui si producevano alcuni dei vini più importanti di tutta l'Irpinia. E adesso, dopo anni di abbandono, questa struttura è stata recuperata dal evento La Repubblica delle Bolle, che sarà una serie di attività dal 21 al 25 aprile 2023 proprio per ridare vita e riscoprire il piacere del vino nella città del vino. L'accesso è completamente gratuito e si può acquistare un kit degustazione per provare tutte le bollicine migliori d'Italia. E non solo, poiché proprio qui in questo piazzale dove sto camminando adesso ci sono invece i concerti a lume di candela di notte, sempre ad accesso libero.